Il bel tempo ha conquistato i numerosi turisti e ospiti di Loano e Pietraligure per le lunghe vacanze e natalizie. Il clima decisamente primaverile ha così cancellato il ricordo del rigolo invernale dei giorni scorsi, con un inizio d'anno all'insegna del sereno e del buon auspicio. Dalle immagini che abbiamo visto, sembra di essere in primavera e quasi estate. Anche quest'anno la città, grazie un po' a tutti, al lavoro di tutti, questo va detto, alle categorie economiche, ai bagni marini, agli albergatori, alle associazioni culturali che hanno fatto la loro parte. È stata una città che si è fatta trovare pronta ad ospitare il cittadino, ad ospitare gli eventi, ma soprattutto pulita, perché tante erano le persone, le famiglie sulle nostre spiagge loanesi. Ma facendo un bilancio di questi 15 giorni, da quando sono finite le scuole fino all'Epifania, non possiamo dire altro che un bilancio positivissimo, pieno dappertutto e sono state apprezzate le nostre manifestazioni, ma soprattutto è stata apprezzata la prontezza della città ad ospitare in queste belle giornate chi in riviera viene per andare al mare, quindi hanno fatto dimenticare la neve dove c'era e dove non c'era, ma apprezzare le giornate di sole, giocare sulla spiaggia, sulla riva e quanta gente quest'anno che ha fatto il bagno, da non credersi. Peccato che è arrivata l'Epifania e sono andati tutti via. Va un ringraziamento a tutta l'associazione, a tutti questi privati che veramente, devo dire che la cartolina, questo biglietto da visita arrivando dal mare in Loano è stato un biglietto da visita puntualissimo, a livello ambientale tutto pulito, insomma i bagni marini aperti e questa è un po' una cartolina che noi dovremo sempre di più saperci vendere insieme a questa categoria, cioè i bagni marini veramente hanno fatto la parte da Leone in queste settimane, io li ringrazio perché è il gioco di squadra che fa vincere e il gioco di squadra questa volta veramente ha fatto vincere la città di Loano.